L'ingegner Gianfranco Lopane è candidato per il Consiglio regionale pugliese con la lista con Emiliano a sostegno del governatore uscente Michele Emiliano. Ci occupiamo di ambiente, un tema caldo per Taranto, pensiamo alla questione Ilva Arcelor Mittal. Sicuramente dobbiamo partire da lì perché è un'avvertenza ancora aperta nel nostro territorio e dobbiamo partire intanto dicendo che ogni impianto di produzione deve essere prima di tutto sicuro per i lavoratori e in secondo aspetto deve essere sicuro per i cittadini che vivono in questo territorio. Per questo da anni si comincia a parlare sempre più insistentemente di decarbonizzazione ed è questa la via che noi dobbiamo percorrere con grande fermezza ma anche con grande coraggio. Insieme a questo la nostra provincia può raccontare e può giocare anche una partita diversa dal punto di vista delle opportunità per un paesaggio assolutamente straordinario che abbiamo sia nel versante orientale che occidentale e per una biodiversità che molti ci invidiano per cui sicuramente dobbiamo superare le criticità legate all'Ilva ma possiamo puntare anche ad opportunità che il nostro ambiente, il nostro paesaggio e la nostra natura ci hanno regalato.